Paura questa mattina a Pesaro in via Solferino, dove sono state coinvolte quattro macchine in un incidente. Quattro persone sono rimaste ferite, due coniugi alla guida di una Passat ed altri due uomini alla guida rispettivamente di una Qashqai bianca e di una Lancia Y russa. Illeso invece il conducente che era alla guida della quarta vettura, una Hyundai i20, che si sarebbe ritrovato imbottigliato tra le tre macchine. Secondo le prime ricostruzioni, la prima macchina, una Passat blu che proveniva da Pesaro in direzione Orbino, ha invaso completamente l'altra corsia da dove stava arrivando la Qashqai bianca. Pare che il signore alla guida della Passat abbia avuto un malore e non sia riuscito ad evitare di invadere l'altra corsia. Dall'altro lato la Qashqai bianca che stava andando in direzione Pesaro gli avrebbe provato a suonare e successivamente avrebbe provato a scansarsi, ma è stata presa in pieno sul fianco. La stessa Passat subito dopo si è scontrata anche con la macchina dietro, una Lancia Y russa che è stata spinta fin verso il fosso fuori dalla carreggiata. L'unica che è riuscita a frenare colpita soltanto sul fanale sinistro dalla Passat è stata la Hyundai i20 guidata da un ragazzo pesarese. Sul posto tre ambulanze, tre chiamonette dei vigili del fuoco, oltre una volante della polizia e della municipale per i rilievi di legge. I quattro feriti sono stati portati via in ambulanza. Grazie. Grazie. Grazie.